Un saluto anche alla nuova Arcidiocesi che il Santo Padre mi ha affidato, l'Arcidiocesi di Potenza. Chiedo al Signore di benedire la nuova comunità che mi accoglierà, chiedo di benedire tutto il popolo di Dio, i presbiteri, i diaconi, i religiosi e le religiose, coloro che servano pastoralmente questa Chiesa e tutta quanta la comunità cristiana e il popolo di Dio che è lì, perché possiamo fare un'esperienza di Vangelo, possiamo incontrare il Signore Gesù e i fratelli insieme e poter ricevere dal Signore tutti i doni che sono certamente consegnati a me come umile persona che verrà ad incontrarvi e a tutto il popolo di Dio. Dobbiamo dialogare insieme e servire insieme l'unico Signore, l'unico Maestro, l'unico Vangelo.